Questa settimana la città di Moncalvo è stata scossa da due gravi incidenti accadute a due persone molto stimate e conosciute. Si sono svolti ieri, fra tanta commozione e costernazione, i funerali del noto ristoratore Leandro Varvello. Da alcuni mesi in pensione aveva gestito la centralissima osteria a Leramo ed ora curava con passione il suo orto. Una passione che è stata fatale al 61enne ristoratore, mercoledì scorso rimasto schiacciato dal trattore dello suocero. I moncalvesi poi sono ancora in apprensione per le gravi condizioni in cui versa ancora Walter Biginelli. Il 36enne, noto commerciante della città, è ricoverato da martedì scorso al CTO di Torino. Ieri fortunatamente è stato dichiarato fuori pericolo dai medici che si erano riservati. La prognosi, martedì, il commerciante alla guida del suo fuoristrada, dopo aver portato il figlio di 7 anni presso parenti, stava dirigendosi verso la località San Giovanni per aprire il suo negozio di alimentari per animali. Improvvisamente, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la vettura è uscita di strada e si è capovolta in un campo ed ha sbalzato fuori dall'abitacolo il Biginelli. Soccorso da passanti e poi dal 118, vista la gravità del caso, con l'elicottero era stato portato all'ospedale torinese. E mentre scorrono le immagini di giovedì a Cortazzone, dove si è conclusa la sesta ricchissima edizione dei tornei di bocce denominata Tartuffo d'Oro, vediamo i principali appuntamenti di questo fine settimana. A Via Rigi, domani il paese, come ogni anno ad agosto, sarà invaso dagli artisti di strada, equilibristi, funamboli, mangiafuoco, attori dell'Ercolaio, i maghi Roger ed Ivan ed un'infinità di curiosità per piccoli ed adulti. Ci saranno anche gli sbandieratori di Tanaro, Torrazzo e Trincere ed anche il Parco dei Divertimenti. Nelle vie del centro storico è previsto un ricco mercatino. A Mongardino, nell'ultimo weekend delle feste patronali iniziate il 20 agosto, questa sera sotto il Palatenda ci sarà la compagnia teatrale Attori per Caso. Domani al Bocciodromo si avranno le finali del torneo di bocce, mentre al campo sportivo giochi per tutti i bambini, alle 21 festa della leva del 92. Si gioca anche a Costigliole con la prosecuzione del paglio calcistico dei Borghi, che vede la partecipazione di migliaia di persone. Questa sera e domani si concluderanno le fasi eliminatorie. Tra l'altro sempre a Costigliole e domani nel Parco del Castello, dalle ore 21 e 30 si tiene un tributo alla musica napoletana dal 1200 al 900, cantante Sabrina Marciano, chitarra Pino Russo, percussioni Maurizio Rossi. A Cagliano invece da questa sera fino a domenica, la carne d'asino sarà protagonista con pranzi e cene, ci saranno lo stufato, gli agnolotti, i salamini ed intingoli. Il tutto con il sottofondo musicale della cover band Deluxe. Infine un appuntamento importante per lunedì a Castagnole delle Lanze, dove in programma la Fiera della Nocciola, il tradizionale appuntamento di riferimento anche per fissare il prezzo. Quest'anno la produzione della nocciola, tonda gentile delle Langhe, è ottima sia come qualità che come quantità, anche se la maturazione è in leggero ritardo. Lo scorso anno il prezzo è oscillato fra i 140 e i 150 euro al quintale. Alle 11 e 30 a Castagnole è prevista la premiazione degli espositori, al produttore che porterà al mercato il maggior quantitativo andrà la nocciola d'argento. Si potranno anche acquistare i sacchetti di nocciole della solidarietà, il ricavato andrà alla Lega Tumore Castagnolese. E con questo da Asti è tutto, grazie come sempre per averci seguito. La linea torna allo studio.